ok ragazzi vi farò vedere la dimostrazione reale del burglas effect ma in maniera interattiva cioè voi avete tutto qui davanti e vedrete il tutto mazzo di carte, le carte vanno mescolate ovviamente nessun ordine quindi Manuela che mi dovrà dire una carta non saprà niente di niente cioè mi dovrà fermare e... amore? mi fai un favore? tanto tu non sei in tutte carte regolari guardate ragazzi però è veramente qualcosa di straordinario non sto scherzando e... ti chiedo la cortesia mi dici stop quando vuoi tu? vuoi il gioglio o la donna? la donna ok la donna è la carta scelta una carta scelta libera ora guardate Manuela dammi un numero non grande un numeretto vai cinque guardate ragazzi guardate con i vostri occhi io provo lentamente e tremo perché è incredibile ciò che verrà una carta due carte tre carte quattro carte siamo là cinque carte se dopo cinque carte qui c'è esattamente la donna di cui io tremo è incredibile non c'è una carta dunque